visto che si trova a bordo campo Sfortunato anche Guidi che però ha chiesto ai suoi una concentrazione finale perché insomma crede, crede in questa vittoria E ci crede anche Gondo sempre davvero generoso nel costruirsi in pratica anche da solo qualche azione pericolosa qui ha trascinato dietro di sé tutta la difesa del NorthGelland manca un minuto alla fine con una fiantina avanti Zanon subito in mezzo per la rovesciata di Gondo Che gol! Che gol di Bangu! che rete fantastica di Bangu per il 3-2 della Fiorentina in pieno recupero Il giro di campo dei giocatori della Fiorentina la grande festa viola qui a San Giuliano Terme c'è grande rammarico sulla panchina danese Che rete fantastica di Bangu E non poteva iniziare meglio questo torneo per la Fiorentina con una prodezza Davvero una prodezza da parte di Bangu Tra l'altro con il piede destro, credo, quindi non con il suo La coprazia straordinaria di Bangu che ci ha abituato a reti belle Ma questa è bella